Buongiorno, una bella meditazione di Don Mauro Leonardi che potete trovare citata qui sotto e comunque nel suo blog, relativa al Gesù che passa, ci racconta di come l'importante per noi, qualunque siano i nostri valori, perché la meditazione che propone, la riflessione che propone Don Mauro è relativa ai cristiani, ma io credo che sia applicabile a chiunque, come noi dobbiamo in qualche modo far risaltare quella promessa di Gesù del centuplo per uno qua giù. Citando uno dei primi amici di Don Giussani in questa meditazione, Don Mauro ricorda come quello che colpisse questi ragazzi che seguivano Don Giussani all'inizio del movimento di comunione liberazione fossero attratti da una sua frase che notava come più che la divinità, più che l'eternità, più che la trinità, quello che colpiva Don Giussani sul mancato interesse delle persone che circondavano il loro movimento era quella promessa di Gesù, avrete il centuplo qua giù. E quello che diceva Don Mauro in questa orazione è ma noi siamo capaci di far percepire questo centuplo qua giù che noi abbiamo ottenuto, che noi stiamo vivendo grazie a quello che è la nostra fiducia, la nostra fedeltà nei valori nei quali crediamo. In altre parole, l'abbiamo trovato noi questo centuplo? Lo stiamo vivendo? Lo stiamo regalando a coloro che sono intorno a noi? Facciamo ogni giorno degli atti concreti perché le persone che ci sono intorno gioiscano, lo vedono? Perché qui c'è il segreto dell'affetto per gli altri, della condivisione delle cose che ci fanno felici, far felici loro. Siamo capaci di farli felici o li carichiamo soltanto di leggi, precetti e altro senza neanche aver provato prima a sederci al loro fianco, ad ascoltarli, ad arretta, a farli sentire il nostro amore, a farli percepire il centuplo qua giù. Buona giornata!